Primo incontro presso il Museo archeologico nazionale fra l'amministrazione comunale di Ponte Cagnano-Faiano e gli operatori del settore turistico della fascia costiera. Oggetto dell'incontro la presentazione da parte del governo cittadino di una serie di progetti per il miglioramento dell'offerta turistica in vista della stagione estiva. Fra i progetti vi è l'indizione di un bando per i taxi al fine di debellare il fenomeno dell'abusivismo e l'istituzione di un centro per l'assistenza turistica che avrà sede in Litorania e nel centro cittadino. L'inizio della stagione balneare inoltre verrà anticipato con apposita ordinanza. Il progetto è quello di rendere quella zona una zona appetibile, quindi ci sono sicuramente dei progetti, un'ambizione di medio-lungo periodo che è quella di riqualificare completamente quell'area e di renderla protagonista anche dal punto di vista turistico di tutta la zona della provincia di Salerno. Ci sono anche degli obiettivi di breve periodo come quella addirittura di immaginare già a partire da quest'anno di anticipare la stagione balneare dal primo maggio e vogliamo poi mettere in campo una serie di azioni che rendano vivibile quel territorio, quindi magazzino, con iniziative anche culturali, ludiche, di concerti, quindi essere punto aggregante anche dei comuni limitrofi al nostro. Capitolo a mare c'è stato un incontro con l'ARPAC. Sì, abbiamo incontrato l'ARPAC perché vogliamo mettere in campo una serie di azioni di contrasto al fenomeno anche degli sversamenti abusivi. L'obiettivo è quello di non ritornare ogni anno con la solita notizia drammatica del divieto di balneazione, ma porre in essere innanzitutto come amministrazione comunale una serie di attività di controllo affinché possiamo un giorno arrivare ad avere il mare pulito e quindi balneabile. Avevamo già stabilito con il sindaco Giuseppe Lanzara di partire subito con dei progetti affini al turismo a Ponte Cagnano. C'eravamo ripromessi che a gennaio ci mettevamo a lavorare subito sul bando TAC, sì, stamattina ci siamo riuniti, a breve partirà tutto il motore per avviare questo bando, quindi diciamo che presto anche Ponte Cagnano avrà i taxi. Centro di accoglienza turistica, i famosi infopoint che adesso si denominano così, anche questo è pronto quasi la delibera per portarlo in giunta, avremo questo centro IAT che verrà gestito ovviamente dalla Proloco che mi affianca in tutte le iniziative turistiche, avremo due sedi, uno al centro della città e uno che stiamo cercando di capire dove metterlo, giù alla Litoraneo proprio per essere a disposizione sia degli operatori turistici sia degli stessi cittadini.